il treno regionale veloce 17 33 di trenitalia proveniente da albenga e diretto a torino porta nuova delle ore 16 e 20 è in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pietra ligure finale ligure marina savona san giuseppe di cairo ceva mondo b fossano savigliano cavaller maggiore carmagnola torino lingotto il treno regionale 11 289 di trenitalia proveniente da albenga e diretto a genova piazza principe delle ore 16 24 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pietra ligure finale ligure marina spotorno noli savona barazze cogoletto arenzano genova voltri genova sestri ponente genova san pier d'arena il treno regionale veloce 18 43 di trenitalia proveniente da alassio e diretto a milano centrale delle ore 16 24 è in arrivo in ritardo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pietra ligure finale ligure marina spotorno noli savona barazze genova piazza principe ronco scrivia arcuata scrivia tortona voghera pavia milano rogoredo milano lambarate il treno regionale 11 2 9 1 di trenitalia proveniente da alassio e diretto a genova piazza principe delle ore 16 24 è in arrivo in ritardo al binario 3 invece che al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma pietra ligure finale ligure marina spotorno noli savona barazze cogoletto arenzano genova voltri genova sestri ponente genova san pier d'arena il treno regionale veloce 18 79 di trenitalia proveniente da ventimiglia e diretto a milano porta garibaldi delle ore 17 21 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma pietra ligure finale ligure marina spotorno noli savona barazze arenzano tortona voghera pavia milano lambarate il treno regionale veloce 17 55 di trenitalia proveniente da milano centrale e diretto allontanarsi dalla linea gialla e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma al benga il treno regionale veloce 25 23 di trenitalia proveniente da milano centrale e diretto al benga delle ore 17 e 36 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a ceriale il treno regionale veloce 17 89 di trenitalia proveniente da ventimiglia e diretto a bergamo delle ore 19 51 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma pietra ligure finale ligure marina spotorno noli savona barazze arenzano tortona voghera pavia milano rogoredo treviglio ovest verdello dal mine